Dagli atti degli Apostoli Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano tutti costoro, che parlano non sono forse galilei. E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfiglia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, Romani, qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue della grande opera di Dio. Parola di Dio. Grazie a tutti. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. Recitiamo insieme la sequenza. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, Nella fatica riposo, Nella calura riparo, Nel pianto conforto, O Luce Beatissima, Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, Senza la tua forza nulla è nell'uomo, Nulla senza colpa, Lava ciò che è sordido, Bagna ciò che è arido, Sana ciò che è sanguina, Piega ciò che è rigido, Scalda ciò che è gelido, Drissa ciò che è sviato, Dona ai tuoi fedeli, Che solo in te confidano, I tuoi santi doni, Dona virtù e premio, Dona morte santa, Dona gioia eterna. Alleluia, Alleluia, Vieni Santo Spirito, Riempi i cuori dei tuoi fedeli, E accendi in essi il fuoco del tuo amore, Alleluia, 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 Il Signore sia con voi, E accendi in vostro, Dal Vangelo secondo Giovanni, Gloria a te, Signore, La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro, e disse, Pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse di nuovo, Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. parola del Signore. Alleluia. 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 Siamo giunti a completare la Pasqua, a completare il tempo della Pasqua, perché voi sapete che la Pasqua non si completa, la Pasqua è una grazia che si espande continuamente, che continuerà sempre. Io non so se l'universo è finito o infinito, la materia, io non ho mai capito le cose della fisica, quindi non lo so, chiedete a chi ha studiato, che le cose le sa, o pensa di saperle. Ecco, mentre la Pasqua è sicuramente una realtà che dura per l'eternità, è una grazia che ci viene consegnata e che dura per l'eternità, per cui noi la celebriamo dentro un tempo particolare, ma noi siamo fatti così, andiamo a scatoline, purtroppo siamo fatti in questa maniera, siamo limitati. Per noi perfetto vuol dire limitato, è perfetto vuol dire che è finito, per Dio è perfetto vuol dire che è eterno, che è per sempre, che non ha fine. È una realtà che dura sempre, è una realtà che per noi è una certezza. Per noi invece rimaniamo un po' così, forse un po' come gli apostoli prima della Pentecoste potremmo dire, perché ci sentiamo a volte un pochino orfani, ma il Signore l'ha detto, io non vi lascerò orfani, vi manderò un consolatore, e a stare attenti con questa cosa del consolatore, che è un termine molto importante, non è un termine di consolazione. Valamo, ti togliamo un giochino, ma ti prendiamo una baretina di cioccolata, così c'hai il tuo cicino di consolazione. Assolutamente no. Dice addirittura il Signore, oh, guardiamoci negli occhi, guardate che è meglio che io vada via. Ma non è meglio che io vada via, perché se no mi vendico, mi prendo cinque minuti, quando penso a tutto il male che mi avete fatto, che magari me la prendo e mi viperisco. No, è meglio per voi se io, perché se io non vado, non verrà a voi il consolatore. Guardate che, perché sapete la dirittura, no? Che o è la montagna che va da Maometto, o è Maometto che va alla montagna. Ecco, finché c'era Gesù, insomma, lui faceva quel che poteva, e se tu volevi ci dovevi andare. Lo spirito consolatore è dato a noi tutti. Lui prenderà del mio. In questo senso, Gesù ci lascia la certezza che lo riconosceremo. Oh, dice, ma, eh ma, hai sentito il consolatore? Ma dice le stesse cose di Gesù, stesse, stesse, stesse. Sì, le stesse cose che dice Gesù Cristo. E beh, perché? Perché lui prenderà del mio e ve lo annuncerà. E ciò che è mio è tuo, ciò che è tuo è mio, vabbè, insomma, che le cose lì, ok. Ma a questo punto uno dice, signore, ma non è per essere diffidenti, ma chi è sto Spirito Santo? Oh, ma chi lo conosce? Ecco, il Signore che si manifesta nel donare lo Spirito Santo e la Pentecoste, le lingue di fuoco, il Cenacolo e tutto quel cavli, nel Vangelo di Giovanni, nel Cenacolo, il giorno di Pasqua, Gesù dona lo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Alitò su di loro e disse, come dalla croce aveva emesso l'ultimo sospiro e aveva emesso lo Spirito, noi, quando uno muore, diciamo che rimette lo Spirito, ma non è bella questa cosa. Aveva emesso il suo Spirito, ecco, il Signore Gesù alitò su di loro. Ricevete lo Spirito Santo. Lui stesso dona loro lo Spirito, perché riconoscano lo Spirito nel corpo ferito di Cristo. Cristo, con tanto di ferite, in altri luoghi, quando si manifesta i discepoli, lasciamo stare il buon Tommaso che vuole andare a guardare le ferite, ma è Gesù stesso che mostra loro le mani e il costato perché hanno paura. Oddio, è un fantasma. Ma figurati, ma non sono un fantasma. Sono il corpo ferito di Dio. Il corpo ferito. Non il corpo ferito perché tu ti senti in colpa. Guarda lì cosa hai fatto. Vergognati. Vatti a confessare. Una confessatina ogni tanto non fa male. Non è per farci sentire in colpa, ma è tutt'altro. È per farci capire al di là dei nostri dubbi. Vi ricordate domenica scorsa all'ascensione? Gesù saliva al cielo e sì, però, essi però dubitavano. Voi direte che vergogna che vergogna agli apostoli che dubitano. Gli apostoli che dubitano. Io lo prendo come scusa invece. Dico, Signore, io che spesso ho tanti dubbi e tante fatiche di fede, ma anche gli apostoli hanno dubitato il giorno dell'ascensione. Eh, ma come si fa a non dubitare? Il corpo ferito di Cristo presentato dopo la Ressurrezione agli apostoli ci mostra il fatto che il Signore, Dio, assume il dolore dell'uomo, prende su di sé il dolore dell'uomo e non fa male a nessuno. Il Signore è il dolore, del dolore, scusate, se ne fa solo carico. Il Signore non provoca dolore alle persone, non porta il dolore alla gente. E allora che cosa porta il Signore? Porta il suo spirito. Il suo spirito che riempie me. Non è più un qualche cosa da guardare o di cui dubitare. Faccio per dire che io sono io, non dubito mica, eh. Poi magari non mi riconoscete, ma che ne so io. Ma io sono io, io lo so che sono io. Lo spirito viene dentro ciascuno di noi, perché di questo noi non abbiamo nessun dubbio. se io so e sento e capisco che lo spirito di Cristo, lo spirito del Risorto abita dentro di me, di questo io non dubito. Poi ragazzù, che io possa non averne voglia, che io possa non interessarmi, che io possa essere in bassa marea, benessum, eh. come diceva il mio amico prete che faceva la dieta con il pendolino, aveva un una bacchetta di ferro, non lo so, lui prendeva la bacchettina di ferro, la metteva di fianco alla mano e diceva mangio la minestra e la bacchettina si piegava e lui mangiava la minestra. Se la bacchettina si piegava in senso orizzontale, lui lui non mangiava la minestra. Dico beh ma una bella schiavitù, eh. E lui mi disse no ma non c'è problema, basta incrociare i piedi e cambia la polarità del campo magnetico e quindi ecco. Capite? Io posso non aver voglia di seguire lo Spirito Santo ma da adesso in avanti nessuno mi venga a parlare di robe strane o di che cosa. Ma io dico gente ma lo Spirito Santo ognuno ce l'ha nel suo cuore per il dono dei sacramenti cui sacramenti non si scherza assolutamente adesso ovviamente siamo costretti a questa forma di comunione spirituale eccetera eccetera sotto e sopra ma il dono che ci è stato dato è infinito è grandissimo perché? Perché il nostro corpo stesso ferito un po' acciaccato qualcuno qualcuno ha mal di schiena? Alzi la mano uno due tre quattro grazie per quelli che sono stati sinceri grazie anche agli altri che non hanno voluto partecipare il nostro corpo un po' acciaccatello ferito ferito è il luogo dove si trasforma la morte in vita perché uno che ama il di schiena avrebbe tutto il diritto di ignolare stare a letto e non alzarsi invece dice mi alzo mi alzo perché? perché devo fare il caffè a mia moglie o devo fare il caffè a mio marito o perché ho le mie cose da fare perché non voglio essere di peso a un'altra persona cerco di farcela cerco di darmi la mossa dentro di me lavora lo spirito santo perché il mio corpo la mia vita viene riempita dall'amore non quello romantico non quello delle farfalle magari quello dell'energia non lo so dell'elettricità ditelo come volete non lo so come succede però uno sai si guarda e si dice ma le mani ma le mani servono se non fanno gesti d'amore uno ha gli occhi tu hai gli occhi ma i tuoi occhi servono a qualcosa se non vanno a cercare a guardare l'amore le cose buone se sono occhi indagatori se sono occhi giudicanti se sono occhi accusatori Gesù diceva meglio per quell'uomo cavarsi gli occhi entrare in paradiso piuttosto che andare nella genna andare all'inferno i piedi a cosa servono se non ci portano per sentieri d'amore capite dopo uno tra virgolette scusatemi la frase negarò di averla detta potrei perdere il lavoro non ha più bisogno di Gesù Cristo guardi sono Gesù Cristo ha bisogno non si preoccupi sono autonomo ho il suo spirito io ho lo spirito di Cristo che abita dentro di me e che rende la mia vita guarda la mia ecco tragicomica non so come sia a casa vostra la vita ok che rende la mia vita tragicomica il luogo e lagone dove il bene e il male si confrontano punto per questo il Signore dice andate andate e perdonate che non ci sia del male nel mondo per carità che non vedete se vedete del male non aspettate che lo tolga qualcun altro perdonate subito io ti perdono dice io ho litigato con la Sara ma io ti perdono lo stesso la Sara è d'accordo se non è d'accordo ci penso io io vi perdono mi ricordate Giovanni XXIII che muore dicendo perdono tutti perdono tutto per essere da tutti in tutto perdonato andate e perdonate difficile molto difficile ma con l'allenamento piano piano potrebbe finirci spontaneo chissà uno lo sente molto più naturale punto fine del discorso da tutto questo si evince una sciocchezza l'ultima ma noi avremo diritto di propagandare il tipo di uomo che nasce dal Vangelo secondo noi questo è essere umani non che lo siamo ma lo stiamo diventando abbiamo diritto di proporre a tutto il mondo un'umanità fatta di amore e di perdono con tutte le fatiche con tutte le le traversie che si chiamano peccato e male contro cui noi cerchiamo sempre di più di opporre il perdono grazie a tutti